Secondo me la magia nel fare il nostro mestiere è proprio questo, conoscere tantissime persone differenti e insegnare qualcosa. Ciao Elena, grazie per essere qui stasera a Castelfranco. Ciao Arianna, grazie a te, anzi a Fabio per l'invito a questa proiezione fantastica, essendo lui il main sponsor del film. Com'è stata l'esperienza del film? Ogni film ha qualcosa di unico, anche se l'iter per promuoverlo, produrlo è sempre lo stesso, ogni film è unico, perché ogni film ha imprevisti diversi, ha storie diverse e ha persone diverse. Io questa sera ho avuto la possibilità di conoscere un sacco di persone differenti e secondo me la magia nel fare il nostro mestiere è proprio questo, conoscere tantissime persone differenti e insegnare qualcosa, perché il nostro mestiere insegna, abbiamo la fortuna di insegnare qualcosa e quindi questa è una grande fortuna. Certo, com'è stato lavorare con Fabio Fontana? Fabio è diventato un super amico anche, oltre ovviamente il nostro main sponsor del film e noi ci siamo conosciuti due anni fa, eccolo qua, ha detto come è stata la nostra esperienza di lavorare insieme. Noi ci siamo conosciuti due anni fa durante i luoghi della speranza, che è stato il nostro primo film che trattava il tema oncologico e da lì è iniziata una collaborazione che tuttora continua. E' una persona straordinaria che ha una carica e riesce a fare 76 ruoli contemporaneamente, l'imprenditrice, la produttrice, l'attrice, col megafono, pronti, via, ciaxi, gira, azione, cioè... Con i power bank dappertutto... 36, l'imprenditrice che ho di lei, la prima volta che l'ho vista sul set perché l'ho conosciuta in veste prima non ufficiale. Ci siamo conosciuti prima nella Colustico di Conciata, tra l'altro, e... Scena 1, seconda. Insomma, dopo che abbiamo stabilito e concluso che avremmo collaborato per il film, quando li ho visti per la prima volta sul set, sul Lago di Garda, ho trovato tutt'altra persona, aveva tre telefoni in tasca, figli e power bank, il megafono di qua, e dirigeva 200 persone in un modo assoluto. Assoluto. E aveva 24 anni, quindi qui abbiamo una delle due giovani e talentuose, produttrice cinematografiche, che è destinata a fare una carriera assurda e sono onorato di averli conosciuti nel momento ero, nel momento di partenza. Sono onorata di aver avuto Fabio Fontana come uno dei nostri più responsori principali, in realtà, sin dall'inizio del nostro video. Quindi avercene e conoscere persone come Fabio nel corso della vita, insomma, mi ritengo fortuna. 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 Mi ritengo fortuna.